Sì, sono io, chi parla? Franco Paradiso, della... Finna del film. Mi dica. Devo fare un film, mettere insieme una troupe, mandarla in Armenia, ricevere un finanziamento europeo. La troupe? In Armenia abbiamo altra gente, non ti preoccupare. Metà del fondo viene erogato, tu torni in Italia. Una banca incinta e non scogliato. Cominciamo bene. Andiamo, va. Hotel Gagari, un ottimo auspicio. A me più che un gruppo di professionisti mi sembra una banda di disperati. Io faccio tutto quello che mi dici te, professionale. Cioquera. Mi dispiace, Valeria stavolta è andata così. Quel fio della mignotta è scappato con i soldi e ci ha lasciato qua. Venite, c'è una cosa che dovete vedere. È gente del villaggio. Dicono qui, si girano sogni. Le cose accadono da sole. Per magia. Due mesi e nessuno è venuto a prenderli. Sua storia è lunga. Il cinema è la fabbrica dei sogni. Lei sogna molto? Molto. Polinarma. Polinarma. Per.